Per cuore giallo e blu finisce una partita importante, l'ennesima, Torino è un mese che spalla al muro, recupera da meno 6, aggancia un terzetto finale dove adesso magicamente non siamo neanche più ultimi, si batte Brindisi davanti a 5.000 persone, sembra tutto normale ma invece non lo è fino a un mese fa. Siamo con Marco Di Benedetto, ha vissuto in prima persona e sta vivendo, stiamo vivendo questa avventura agrodolce di Agusiglion Torino ma adesso è la parte dolce. Speriamo che lo sia fino alla fine, oggi abbiamo fatto una prestazione solida dove abbiamo dimostrato che tutto il gruppo vuole il risultato e ovviamente per ottenerlo contro una ottima squadra come Brindisi bisognava giocare tutti assieme come abbiamo fatto ultimamente sempre, ancora una volta ce la siamo passata e si vede c'è buon umore quindi continuiamo così ancora per tutto quello che manca e per il tempo che manca e dobbiamo assolutamente farcela ovviamente. Lo dicevamo prima una rincorsa incredibile di Torino però paradossalmente oggi non siamo alla fine della corsa ma siamo all'inizio di un'altra sfida perché adesso Torino ha due partite spalle al muro forse siamo, non lo so, forse è d'obbligo, un pochino più abituati di altri perché la classifica e il campionato ha tirato dentro molte squadre in questo ballo a eliminazione. Io credo che quando si fa questo sport e si vive per la pallacanestro così arrivare a un punto dove puoi giocarti tutto con le tue armi cosa che fino a un mese fa era difficile da pensare è la cosa più bella, non c'è niente ovviamente stressante ma arrivare a questi appuntamenti è il sale di tutto questo spettacolo quindi siamo pronti, l'abbiamo dimostrato anche stasera e ci siamo meritati alla fine di arrivare a questo punto perché quando si lotta per la salvezza è quasi sempre difficile farcela con tanto tempo di anticipo e noi anche piuttosto a farcela all'ultimo minuto ma siamo pronti quindi ci vediamo domenica. Domenica se l'avversario sarà Bologna, due parole se vuoi, tanto siamo intervistati soltanto dalla parte alta puoi tranquillamente fare tutti gli scongiuri del caso Bologna è una squadra a doppia faccia nel senso che è una squadra molto forte, con uno di marcia in casa, un pochino meno fuori ma purtroppo noi andiamo a giocare là. Ci sono i momenti della stagione che cambiano sempre, l'abbiamo visto con tante squadre, anche quelle di vertice. incontrare una squadra in un momento può essere più facile e poi può essere più difficile dopo ma Bologna è una squadra di livello perché è allenata da un ottimo allenatore, ha giocatori importanti e andiamo a giocare in un campo difficilissimo dove c'è storia, tradizione e quindi come andare in un furtino per espugnarlo. Dobbiamo a maggior ragione andare lì con la consapevolezza che abbiamo dimostrato comunque di giocarcela contro tutti. facendo la nostra pallacanestro e pensando al nostro gioco a testa alta e vedremo se saremo più pronti per fare questa partita, come dicono, du or dai. Entro fuori quindi, noi siamo pronti, stiamo giocando bene, Dyson oggi ha fatto il cecchino e quindi non ci resta che incrociare le dita, ovviamente non siamo contro Bologna né contro nessun altro ma siamo per Torino, uno deve andare giù, speriamo non siamo noi. Assolutamente, speriamo di poter alzare le braccia al più presto e godercela. Grazie Marco, a presto e ci vediamo tra pochissimo a Bologna. Grazie a voi, mi raccomando tutti a Bologna, pronti. Ciao, grazie. Ciao Marco.